Mentre le facevano il bagnetto ha ingerito dell'acqua con il sapone che le ha provocato una forte crisi respiratoria. E' accaduto a Magniago a una neonata di nemmeno un mese, essendo nata a giugno a San Vito al Tagliamento. L'incidente è avvenuto alla presenza dei genitori, una coppia di origini campane, ma da tempo a Magniago, per il lavoro del padre che operaio. I due hanno chiamato i soccorsi tramite il NUE 112. Costatata la gravità dell'incidente, la bimba è stata trasportata d'urgenza dal personale sanitario all'ospedale di Pordenone. Qui è stata ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, sempre allertati dall'112, sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. La corsa d'urgenza dell'ambulanza verso l'ospedale è stata eseguita con l'assistenza e supporto della gazzella della pattuglia dei carabinieri per una più rapida e sicura tempistica di trasporto e arrivo all'ospedale. I primi accertamenti hanno messo in luce l'accidentalità dell'episodio.